hai mai sentito l'eco di una casa vuota in attesa di un acquirente quel silenzio che risuona nelle parole di aspettative di attese e di speranze quando metti in vendita la tua casa ogni giorno sembra un'eternità sogni di voltare pagina sei pronto a farlo ma cosa succede quando il mercato non risponde come speravi è qui che entro in gioco io sono cristiana de maria di sinergia immobiliari 4.0 e conosco bene le tue preoccupazioni vendere casa è un viaggio a volte tortuoso spesso pieno di incertezze ma sai cosa fa la differenza trasformare l'attesa in azione come tua gente avrà in me un'alleata che conosce molto bene il mercato proprio come le sue tasche una professionista che sa come valorizzare ogni angolo della tua casa come attirare gli acquirenti e come negoziare per ottenere il miglior risultato possibile faccio parte della community nazionale dei video agenti immobiliari e grazie al video marketing immobiliare posso vendere la tua casa prima e meglio raggiungendo nel modo più rapido un vasto pubblico di acquirenti un vantaggio che i portali immobiliari semplicemente non possono offrirti non lasciare che la tua casa arresti un eco nel mercato fai il primo passo verso una vendita di successo insieme possiamo trasformare l'attesa in un'opportunità straordinaria